Musica Questa sera, mercoledì 24 gennaio, intorno alle 21.30, è divampato un incendio al tetto della Sagra di San Michele. Le fiamme, scaturite per cause in corso di accertamento, hanno interessato una porzione di tetto dove erano in corso alcuni lavori di restauro. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avigliana, Giaveno, Rivalta, Borgone e Torino, oltre ai carabinieri di Avigliana. Le fiamme sono state domate dopo oltre un'ora di lavoro.